Ingegner Gianfranco Minotti, IPES di Bolzano, Istituto per l'edilizia sociale della provincia di Bolzano. Abbiamo partecipato assieme all'architetto Rinaldi a questo concorso con un progetto per il quartiere Casanova di Bolzano. Un progetto che ha vinto il concorso di progettazione che noi avevamo fatto nel 2008, un concorso di progettazione a carattere europeo, per la realizzazione di 85 alloggi in questo quartiere nuovo. Un quartiere nuovo caratterizzato da una ricerca di eccellenza sotto vari punti di vista. Primo quella energetica, quanto un quartiere estremamente innovativo perché è con l'obbligo della certificazione Casa Clima A per tutti gli immobili. Servito da teleriscaldamento, con l'utilizzo di fonti energetiche quali pannelli solari e pannelli fotovoltaici e con il recupero di acqua piovane. Per cui le richieste della committenza erano estremamente precise, un piano di attuazione anche estremamente preciso e disciplinato. La scelta del progettista è ricaduta sullo studio Casarini-Rinaldi di Reggio Emilia che poi ha sviluppato, secondo le nostre direttive, la progettazione. Andrea Rinaldi è socio del Laboratorio di Architettura e Architetti Associati di Reggio Emilia. Come studio di progettazione, come diceva prima l'ingegnere Binotti, noi abbiamo vinto il concorso europeo per l'isolato EA8 del quartiere Casanova e abbiamo sviluppato il progetto della fase preliminare alla fase esecutiva. L'isolato EA8 è un isolato di 85 alloggi sociali, di varie pezzature di superficie e 138 unità per auto posti nei piani interrati. È un isolato ad alta sostenibilità ambientale, composto da tre corpi di fabbrica, uno più alto e due un po' più piccoli, a formare una semicorta aperta verso sud, verso il fiume Isarco della città di Bolzano. Caratteristica dell'isolato è che cerca un rapporto molto alto con l'ambiente circostante, privilegiando i punti di vista sulla città e sull'ambiente circostante della città di Bolzano e valorizza la corte come luogo sociale di incontro e di ritrovo di tutti gli abitanti. L'edificio è un edificio Casa Clima A, è costituito da una struttura in cemento armato, un telaio in cemento armato e solaio in soletta piena, da un tamponamento in muri di mattoni di tipo ad alta efficienza energetica e un cappotto esterno di 18 cm in lana di roccia a diversità differenziata. Tripli vetri per le finestre, tetto verde in copertura e tetto verde per la costruzione della corte e completano un pochino le caratteristiche di ecosostenibilità delle scelte costruttive che sono state fatte.